Noi siamo pronti per avviare lo schieramento presso l'aeroporto di Misurata di una struttura ospedaliera da campo completa di personale medico-infermieristico, comprensiva della necessaria protezione e supporto logistico per un totale di circa 300 unità. In questi giorni alcune anticipazioni della stampa hanno dato informazioni non precise in merito alla composizione e ai compiti di questo contingente e quindi ne approfitto di questa comunicazione ufficiale e istituzionale per riportare l'informazione all'alveo corretto. Una aliquota per la funzione sanitaria vera e propria sarà composta da 65 medici e infermieri. Poi c'è una seconda aliquota che è composta da 135 unità per la funzione di supporto logistico generale cioè è quella che serve alla manutenzione dei mezzi, delle apparecchiature, alle comunicazioni, alla gestione amministrativa, alla organizzazione e direzione delle attività, a tutti quei servizi compresi mensa, vestiario, che sono necessari alla vita quotidiana del personale. Una terza aliquota invece è composta da 100 unità ed è la vera e propria force protection. Ovviamente quando parliamo di 100 unità dobbiamo immaginare che agiscono su tre turni perché le ore di impiego sono quelle, quindi di fatto stiamo parlando di 100 unità suddivise su tre turni per una force protection che riguarda sia l'ospedale sia tutte le operazioni, che ne so, di invio di mezzi, di trasporto che devono essere prodotte per impiantare l'ospedale. Prevediamo anche lo schieramento nello stesso aeroporto immisurato di un C-27J, di un velivolo con funzioni di evacuazione strategica, ci fosse la necessità, speriamo di no, e lo stanzionamento di una nave della missione Mare Sicuro a largo delle coste libiche con compiti di supporto e di protezione aggiuntiva. Non è una nave in più, è una delle navi che sono presenti in questo momento nel dispositivo Mare Sicuro del Mediterraneo. Questa missione è stata chiamata Ippocrate per l'evidente finalità, diciamo, e può avere una iniziale capacità operativa, la primissima capacità operativa garantirà il triage, il primo soccorso con trattamento di codice rosso, le visite ambulatoriali, la stabilizzazione e le trasfusioni di sangue e plasma, il laboratorio di analisi, 12 posti letto e la preparazione dei pazienti per l'eventuale evacuazione aeromedica con il relativo team specializzato, ovviamente se qualcuno si aggravasse e ci fosse la necessità di trasportarli in Italia. Nella stessa fase iniziale sarà garantito anche un team chirurgico di supporto composto da 6 unità che si affiancherà immediatamente ai medici libici per incrementare le capacità dell'ospedale di misurata che ha una buona sala operatoria ma non ha tutte le specialità necessarie e quindi noi andiamo ad integrare le specialità che non sono presenti fra i medici libici. La capacità finale sarà raggiunta dopo circa 3 settimane, fornerà oltre a quanto già attivato ricovero e trattamento fino a 50 pazienti comprensivi di due degenze in terapia intensiva, il trattamento di pronto soccorso dei codici rossi e dei codici gialli, la diagnostica per immagini, la farmacia e la chirurgia salvavita. A regime l'ospedale da campo opererà in piena sinergia, complementarietà, con l'ospedale civile di misurata, abbiamo progettato la cosa in modo che siano diciamo ovviamente complementari e con la possibilità di mandare in Italia i pazienti che in caso si aggravassero avessero bisogno di cure in Italia.